Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Vi auguro un felice anno nuovo, si spera. Come potete notare, sì, ho fatto i capelli, c'ho anche le sopracciglia rosse adesso, le tira di sottofondo purtroppo la mia famiglia, che, ahimè, non posso ancora ucciderla, no scherzo. Però sì, è la mia famiglia che, con le feste e tutto, sto girando proprio questo video, ha proprio la vigilia dell'antivigilia del Capodanno, il 30, insomma, proprio gli sgoccioli, perché volevo essere un po' più sistemata, meno per i capelli, poi per la febbra, lasciamo stare, perché, essendo che sono momentaneamente segregate in casa, poi vi spiegherò meglio nel nuovo anno, con i video successivi che vedrete, perché volevo spiegarvi in questo video, però ho detto, non voglio che sia troppo pesante, voglio che sia un po' più leggero. Ho pensato a tantissimi video da fare per concludere l'anno, per darvi il buon anno nuovo, ma non mi è venuto, cioè, avevo tante idee, non mi è venuto in mente niente, però non volevo appesantirvi, poi avevo problemi con il montaggio, e l'ho detto, devo fare tipo un rewind, una specie di sintesi del mio 2020, ma non c'è molto da dire, a parte che ho iniziato a lavorare a gennaio, poi ho iniziato il lockdown, poi c'è uno spruzzo di libertà in estate, poi ho in lockdown, e poi una specie di libertà per le vacanze natalizie, poi siamo appunto a capo di bobo chiusi tutti in casa, almeno. Poi vi spiegherò comunque meglio questa situation nei futuri video. Nel caso che ci tengo appunto a augurarvi è un felice anno nuovo, spero che vi avete passato bene l'ultimo dell'anno, capodanno, non so sinceramente che differenza ci sia, comunque, che avete iniziato l'anno bene, speriamo che sia meglio del 2020, mi auguro di cuore, e niente, voglio essere abbastanza breve, così vi lascio a guttervi il nuovo anno, spero che comunque abbiate nascosto delle belle feste, vi farò vedere sempre nei prossimi video, adesso la programmazione, vi dirò qual è, così la saprete, ma cammino, ve la farò comunque, ve la metterò nel post, che visto che ho la community, sfruttiamo la community, Sara. Spero che non mi daranno il copyright, perché mia mamma sta ascoltando una musichetta del cavolo sottofondo, speriamo che non si senta. Comunque, posterò il video, se ogni tanto mi vedete che ballo è perché il telefonino non è sul ring, come dovrebbe essere, ma su dei cuscini. Farò i video il martedì, il giovedì e il sabato. Un giorno di settimana ti dedicherò per l'SMR, invece gli altri giorni ti dedicherò per fare altre tematiche, altre rubriche, qualsiasi cosa, dalle recensioni, video log, agli acquisti, ad esempio cosa mi hanno regalato per Natale, non sono ancora riuscita a fare il video, anche perché ho avuto dei problemi, mancano tre regali da dare, e quindi tre regali da ricevere, più o meno, sì. Quindi lo farò poi in un altro video. Poi ho tantissime ASMR che dovrò appunto, dicevo, piazzare una settimana, perché sono i miei vecchi ASMR, che non butterò assolutamente perché sono molto belli, quindi spero che li rivediate con molta gioia e fermezza. O comunque guardatevi perché sono molto belli. Alcuni di voi non li avranno mai visti, altri saranno nuovi, che poi farò appunto nel nuovo anno. E niente. Poi insieme appunto al mio ragazzo, apriremo il canale in comune. Spero riusciremo ad aprirlo. No vabbè, dobbiamo ancora finire di fare il banner, quindi figuriamoci. Perché mettere l'astriciolina sopra. Allora, molti hanno avuto la polemica di dire, Sara, perché hai aperto un canale con il tuo ragazzo, ma il canale ASMR l'hai chiuso? Il canale ASMR principalmente perché era solo mio. Era molto difficile gestire due canali, sia questo che con l'ASMR. Io tengo tantissimo l'ASMR, infatti prometto che farò almeno un video a settimana solo sull'ASMR. E continuerò sempre a farlo. Poi se salderò qua una settimana, adesso vi farò perdonare mettendolo in un altro giorno, quindi non avrò un giorno fisso. Cioè cercherò di averlo fisso, però se vedete che magari, che ne so, il giorno fisso è venerdì. Perché venerdì non ce la manco, come dici, vabbè. Il giorno fisso è sabato, ma magari non riesco a farlo, quindi magari uscio il lunedì. Capite? Quindi riesco a farlo. Il canale che avevo ASMR era solo mio, quindi non avevo nessuno che mi aiutasse. A parte ovviamente la gemella beta che mi aiutava con gli hashtag e tutto il resto. Però non avevo nessun aiuto vero e proprio. Con il canale che invece andremo a creare, io e il mio ragazzo saremo in due a gestirlo. Quindi se io ho dei problemi lo farò il mio ragazzo e viceversa. Quindi è come avere un mezzo canale, non un canale solo. E poi non ho le restrittezze che avevo con l'SMR. Sono dei video che faremo divertenti, di coppia, una volta ogni tanto, quando vogliamo, senza avere il peso di farli settimanalmente, ma di farli con un po' più di leggeresse. Non perché mi pesi fare l'SMR, ripeto, ma avere un unico canale. O è solo un canale ASMR, oppure gestire due canali, tra cui uno ASMR è pesante. È andato pesante, anche perché contate che io non lavoro ancora. Quindi pensate se dovessi veramente poi lavorare, sarebbe impossibile. Avete dovuto per forza abbandonare tutti i due canali. Quindi così io comunque non l'abbandonerò l'SMR. Farò anche altre tematiche. Adesso ho anche la Play, quindi farò poi anche delle live, come avete visto. E niente, io adesso concludo con il video che ho durato già abbastanza. E niente, vi lascio con queste news del 2021. Vi auguro un felice anno nuovo. E poi mi vedrete qua dietro con la foto nuova per il 2021. Che adesso per me sono ancora dietro nel tempo di un paio di due giorni almeno. E niente, buon anno a tutti. Mi raccomando, cerchiamo di essere felici almeno quest'anno. Ce ne possiamo fare? Trociamo le dita, ragazzi. E niente, auguro a tutti. E mi raccomando, la dieta ci pensiamo, la bella trifania. Ciao.